Presa di posizione dell'Associazione Italiana Architettura e Critica sui lavori effettuati sul monumento dedicato al maresciallo maggiore della Guardia di Finanza Vincenzo Giudice in piazza della Repubblica ad Eboli. Tali interventi avrebbero apportato delle modifiche senza alcun criterio progettuale. I lavori effettuati, secondo l'AiAC, annullano il significato di un'opera che è stata selezionata ed esposta al meeting internazionale di architettura tenutosi a Selinunte nel 2017. Con poche mosse e l'assunto del presidente dell'Associazione Luigi Puglisi è stato cancellato il valore semantico del complesso monumento ed il filo logico che metteva in comunicazione ogni singolo elemento. L'eroe è stato vilipeso.